Salve a tutti e bentrovati. Dopo l'intervento da parte della Fed che non ha annunciato una data precisa per l'inizio del tapering, il quale è previsto comunque entro la fine di novembre e che al tempo stesso sempre la Fed ha confermato il graduale aumento dei tassi a partire dal 2022, le principali piazze continentali si confermano favorevoli. In particolare le borse europee non temono nemmeno il dato sul PMI che è in netto calo rispetto alle attese. Partiamo per esempio dal nostro Fuzzimib di cui abbiamo un'anteprima con la mappa del mercato che è nettamente colorata di verde. Graficamente vediamo che l'indice milanese riconquista la soglia dei 26 mila punti facendo registrare un progresso superiore al punto percentuale mentre l'indice di Francoforte si attesta a più 0,85%. Negli Stati Uniti nonostante i deludenti dati macro sulle richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione, gli indici principali si avviano sopra quota. Ottimo lo slancio del Nasdaq che si riattesta sopra i 15 mila con un progresso superiore al punto ma a guidare Wall Street in questo momento è l'ancora migliore Dow Jones con un vantaggio di un punto e mezzo. bancari in grande spolvero quest'oggi a Milano. Unicredit veleggia forte anche del giudizio favorevole emesso dagli analisti di Berenberg. A breve distanza c'è Banca Mediolanum con il suo più 3,21. Più staccata Banco BPM con un comunque più che discreto più 2,55% ma sono comunque tanti gli istituti che hanno fatto registrare buone performance pur rimanendo fuori dalla top 10, anzi dalla top 5 come per esempio Intesa San Paolo, Banca Generali e Finicobank sono alcuni appunto dei bancari non presenti nella top 5 di oggi. Cambiando settore Amplifon torna a risalire e lo fa hissandosi su nuovi massimi storici e poi segnaliamo anche la prova di CNH Industrial con lo scorporo di Iveco che pare sempre più vicino giorno dopo giorno. I passivi di oggi sono poco marcati e rimangono contenuti sopra al punto percentuale. Il fanalino di coda è Inuit che dopo una fase laterale scivola in chiaro territorio negativo nell'ultima fase di contrattazioni. Graduare il trend discendente di Diasodin che fa registrare un meno 0,54%. Infine troviamo Campari a poca distanza dalla parità. L'euro dollaro prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,35% per il momento a quota 1,1735. Ben acquistato anche il rapporto euro yen che sta viaggiando a più 0,70% circa mentre il cross euro sterlina scivola sotto al mezzo punto percentuale. Ed ora lo sguardo ai mercati a cura di Giacomo Moglie. Oggi con me Giacomo Moglie analista tecnico per dare uno sguardo ai mercati dopo la tempesta di inizio settimana. Lascio a te i grafici e considerazioni. Mi è trovata Rossana, la Fed ha deciso di non annunciare per ora una data certa per l'avvio del tapering pur previsto entro la fine dell'anno. La gradualità del processo e i timori attenuati sul fronte della crisi evergreen forniscono propensione al rischio per il terzo giorno consecutivo dopo il sell off di avvio settimana. Scampato pericolo. Allora proviamo a rispondere partendo come sempre dalle evidenze tecniche di cui disponiamo. Partiamo da Wall Street S&P 500 qui in quadro tattico che attinge al grafico espresso con candele settimanali. Bene da ottobre 2020 l'indice americano non chiude una settimana sotto il livello dinamico ora in transito a 4330 punti dunque il livello da monitorare spartiacque nel quadro tattico. Nel breve dunque in grafico giornaliero un minimo di ieri l'altro a 4305 di riferimento per la configurazione di tentativo di ripartenza che ieri ha organizzato a 4355 punti in chiusura secondo i nostri modelli. In questo specchio grafico dunque si incrociano le sorti di breve e tattiche sull'S&P 500. Tornando al vecchio continente osservando quest'oggi il Euro Stoxx 50 bene qui sempre nell'osservazione in quadro tattico dell'indice paneuropeo si propone un test interessante rispetto al rientro dalla pressione ribassista un test simile a quello visto a fine luglio. Un epilogo di questa ottava al di sopra di 4.110 punti agevolerebbe la chiusura dell'ipotesi tattica di debolezza qui aperta sull'indice paneuropeo venerdì 3 settembre in realtà per provare di nuovo a guadagnare uno scenario di positività. Uno sguardo infine al Fuzzimib bene qui anche qui in osservazione tattica sull'indice italiano ci propone un test interessante questo fine settimana nella misura in cui un'osservazione di domani è di sopra di 25.700 punti agevolerebbe anche qui quanto meno temporanea archiviazione dell'ipotesi ribassista che a differenza dell'Eurostox 50 l'indice italiano ha aperto solo ad inizio di questa settimana per cui l'esercizio tornerebbe ad essere quello di decifrare il fronte rialzista con presidio proprio sulla debolezza estrema vista nei tre giorni tre giorni fa. Infine una notazione tornando sugli indici internazionali sul China Shanghai riprendendo dunque le fibrillazioni che dal paese del Dragone sono arrivate. Bene qui abbiamo un indice che questo inquadro settimanale in cui area 3600-3700 è di massimo pluriennale dal 2016. Bene a metà febbraio un tentativo di scavalcare 3700 è andato risucchiato in test da inizio settembre un test fallito di scavalcamento. Va bene 3730-3735 in questa fase violato al rialzo farebbe tornare la più il tattico sull'indice cinese e questo sarebbe diciamo una indicazione di positività anche per gli altri listini. Perfetto Giacomo io ti ringrazio della panoramica con te rimando l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie Rossana e Giacomo vi ricordo che potete iscrivervi al canale YouTube di Tradelink per non perdere i prossimi appuntamenti e per consultare tutti i contenuti aggiornati su Tradelink Web e sulla nostra app. Una buona serata.